Ciao ragazzi, siamo qui a... Scena 2, scusa... Siamo qui a Kyoto, welcome to the... Hi guys, scena numero 3, siamo qui a Kyoto, welcome to the Kyoto. Mi avevo lasciato un po' un saludo. Siamo nel centro di Kyoto, precisamente nel corner di On, dove ci sono gli spettacoli di geshe e adesso di solito non fanno entrare gli occidentali, ma noi ci proveremo grazie ai nostri agganci. Nel frattempo abbiamo mangiato un bel piatto di shabu shabu. Cavana, che dici? Buonissimo? No, non è piaciuto il cavana, però dici che buono. Ragazzi, andiamo a vedere queste geshe. Come on.